Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare un nuovo appuntamento con la rubrica Riders of the Lost Film. Questa volta andiamo indietro nel tempo ma neanche di tanto, andiamo al 2003 quando uscì nei cinema di tutto il mondo c'era una volta in Messico, film scritto, diretto e prodotto da Robert Rodriguez con un cast incredibile. Ne parlo con grande piacere con Pierpaolo Bonelli, ciao Pierpaolo. Ciao Giulio, andiamo a riguardare, a rivivere le avventure del Mariachi. Esatto, le avventure del Mariachi, la terza avventura, perché in realtà questo è il capitolo conclusivo della trilogia realizzata da Robert Rodriguez con appunto il primo capitolo che è il suo film d'esordio, è il Mariachi, qualche anno dopo, siamo nel 92 con il Mariachi, qualche anno dopo nel 95 uscì Desperado e questo nel 2003 è stato il terzo capitolo. Il terzo capitolo che abbiamo scelto perché è anche quello venuto meglio e che consacra tutto il talento di Robert Rodriguez che a inizio anni 2000 era veramente col vento in poppa. Sì, è vero. Oddio, a me era piaciuto molto anche il primo, devo dire la verità, perché era molto più scarno, più povero anche perché era fatto tutto fatto con quattro dollari ed era anche molto più sporco. Un quattro pesos, bravo, e era anche molto più sporco. Questo qua è un po' più elegantino, se si può mettere questo attributo al cinema di Rodriguez che non credo che gli farebbe tanto piacere, però effettivamente è molto molto divertente ed è avvincente. Sì, molto avvincente con una storia anche bella e intricata. In breve la possiamo raccontare così. Siamo in Messico, il presidente messicano decide di fare la guerra ai cartelli della droga e nella fattispecie al boss Barilio interpretato da William Defoe, il quale sta pianificando un colpo di Stato insieme al generale Marquez. Il boss con i soldi della droga finanzia sia militarmente ma anche economicamente il generale Marquez e il presidente messicano deve trovare una soluzione. Questa soluzione però non viene. Allora intervengono gli Stati Uniti, nella fattispecie un agente della CIA, che è Sense, interpretato da Johnny Depp, che vuole convincere il mariachi a tornare a sfoggiare le sue pistole e la sua chitarra. Il mariachi, che è considerato un eroe per il Messico, si è un po' ritirato, ma decide di accettare la proposta di Sense non tanto per il compenso per i soldi, ma perché lui ha un conto in sospeso. Perché nel capitolo precedente il mariachi perdeva la sua amata Carolina interpretata da Salma Hayek e quindi si vuole vendicare a suo modo. Allora noi qua ritroviamo questi personaggi che avevamo visto appunto nelle due avventure precedenti, naturalmente Banderas nelle parti del mariachi, ma anche i suoi aiutanti Lorenzo e Fideo Fideo con Enrique Iglesias e Marco Leonardi. Che cos'è che ha in più rispetto alle altre storie del mariachi questa? Allora, secondo me ci sono vari elementi, nel senso che è vero, il primo film è pur sempre un buon film di esordio, si vedeva già una buona capacità di Rodriguez qua, ha affinato la sua conoscenza nell'uso della macchina appresa, ha imparato secondo me anche ad avere più ritmo e a tentare sempre nuove strade originali, a volte anche divertenti e poi ha un bel uso della della fotografia dei colori che secondo me nei tre capitoli questo è anche il migliore da quel punto di vista. Poi è un film di grande ritmo, è fondamentalmente un action western fatto di pistole e chitarra che è una cosa molto divertente, vista anche poi nel film funziona molto bene. Poi c'è tutto questo corollario di cast tutti molto bravi, Johnny Depp nel suo periodo d'oro visto che pochi giorni fa avevamo parlato di Waiting for the Barbarians dove non avevamo elogiato Johnny Depp. Pensiamo a un film con Johnny Depp che funziona molto bene e qua funziona alla grande, tra l'altro è protagonista nel finale in una sparatoria incredibile, viene rapito dallo stesso boss Bariglio, viene trucidato, viene sfigurato e c'è questa scena dopo essere stato sfigurato con gli occhiali da sole e gli occhi insanguinati che sembrano quasi lacrime che è un'immagine che fa ancora il suo grande effetto. Ma è un film che funziona benissimo dall'inizio alla fine, Antonio Banderas è perfetto, l'avamo già visto nel capitolo precedente, è desperato che a me non ha mai convinto come film e quindi è un film visto appunto a quasi vent'anni di distanza, regge benissimo il tempo, anzi dico questa cosa un po' nostalgica, il film è realizzato con la pellicola quindi ha ancora quel sapore analogico di non essere patinato, di essere un po' grezzo che me l'ha fatto amare ancora di più. Sì e poi insomma poi c'era anche qua come dicevamo un Robert Rodriguez che è veramente in gran forma perché lui ci ha regalato dei momenti molto belli, adesso si è un po' perso il ragazzo però insomma questo è un momento divertente della sua filmografia. Assolutamente divertente anche perché c'è da dire una cosa, diamo a Cesare quel che di Cesare, adesso che siamo nel 2020 il cinema messicano è diventato, è entrato a Hollywood ed ha dei signori registi, beh però bisogna andare indietro nella storia secondo me Rodriguez ha favorito questo avvento del cinema messicano nel cinema mainstream e nel cinema americano poi c'è anche da dire che secondo me ha fatto questo capitolo conclusivo perché i film precedenti che aveva fatto era un'altra trilogia che era Spy Kids che insomma nella bellissima filmografia di Rodriguez io continuo a chiedermi ma perché? Perché secondo me è un film che è proprio una trilogia che non c'entra niente col suo stile di cinema col suo modo di raccontare il cinema e di gestire i personaggi. Spy Kids è un film che poteva fare Disney un film per bambini che funziona ma non è mi sono sempre chiesto perché ecco per fortuna si è rifatto con C'era una volta in Messico poi subito dopo visto il grande successo che ha avuto il film sono nati degli altri progetti affini ha fatto quelli specie di spin off con Maccete del film Maccete con Danny Trejo che è presente in C'era una volta in Messico insomma è un film che ha dato il là a tanti altri fenomeni cinematografici interessanti divertenti di cinema mainstream ma che funziona funzionavano bene sì cinema mainstream però con il sapore un po' da cinema da serie B che è un po' quello che ci piace dai assolutamente sì assolutamente sì ho detto quella nota nostalgica della pellicola proprio perché sa molto di film di serie B ma fatto da un regista che allora è vero si è un po' perso il suo film il suo ultimo film Alita è uscito l'anno scorso Caruccio un film di fantascienza action Caruccio tratto da una manga però se va indietro il suo film precedente ancora era Sin City e si è nel 2014 quindi insomma è un regista che ultimamente non è che si fa tanto vedere però i suoi esordi appunto questa trilogia penso anche dal tramonto all'alba che siamo sempre da quelle parti è un bel inizio di carriera Once Upon a Time in Messico ovvero c'era una volta in Messico è il film che i Raiders hanno così rispolverato per questa settimana per questa puntata e noi naturalmente vi invitiamo a andarlo a riguardare Assolutamente per questo appuntamento è tutto ti ringrazio Pierpaolo ciao a tutti e alla prossima